Allora, Alessandra Viero è in collegamento con noi da San Felice sul Panaro. Ciao Alessandra, buonasera. Ciao Alessio, ecco qui. Allora, vedo che sei con il commissario straordinario della Croce Rossa Italiano, Francesco Rocca. Allora, un po' di numeri intanto, Alessandra, perché insomma gli sfollati erano prima 5.000, poi addirittura sono passati a 7.000, insomma il numero continua a crescere. Certo, è così, il numero è cresciuto e appunto adesso parliamo di 6.250 persone sfollate, è un numero che è salito in queste ore perché le scosse continuano, è così, commissario? Sì, beh, la scossa di ieri comunque ha fatto tornare molta paura e quindi il numero è cresciuto nelle ultime ore. C'è anche da aggiungere che c'è una parte di persone che si erano allontanate nei primi giorni e adesso sta tornando perché magari deve riprendere il lavoro o comunque vuol tornare sulla sua terra. Ecco, altre cifre, altri dati da dare. Vi dico che ci sono 16 campi tenda allestiti qui, tra San Felice sul Panaro, ma anche Finale Emilia, Massa filanese. Quanti volontari della Croce Rossa Italiana al lavoro? I volontari sono circa 180, 40 sono i mezzi, ci sono tre squadre anche di supporto psicologico, tre squadre le abbiamo viste adesso nel servizio che fanno attività di clownerie, le attività per i giovani, in questo momento stiamo rafforzando molto e nelle prossime ore aumenterà il numero delle squadre di supporto psicologico perché stiamo vedendo che da un lato le scosse che non terminano, dall'altra aumenta la paura per il futuro, cioè in queste ore comunque comincia ad elaborarsi la preoccupazione per il domani, per le prossime settimane, per i prossimi mesi, per il lavoro, quindi in questo momento c'è bisogno di rafforzare il sostegno psicologico. Quindi risposta concreta naturalmente sui bisogni primari, ma anche un supporto dal punto di vista psicologico per queste persone? Assolutamente sì, la rete è proprio questa, cioè si dà una risposta al primo bisogno, però adesso occorre anche creare una rete di sostegno psicologico e sociale che possa accompagnare l'uscita da questa fase dell'emergenza. Ecco che strascichi può lasciare un trauma come quello del sisma? Abbiamo visto anche nel servizio anziani, ma anche bambini che continuano a ricordare queste immagini, questi suoni di quella notte. Sono traumi profondi, occorre intervenire, elaborare, ecco perché poi c'è bisogno degli psicologi, di persone che possano comunque aiutare l'elaborazione di questo percorso, perché comunque chi vive questi momenti di paura, chi perde tutto e deve ricostruire, comunque ha bisogno di essere accompagnato. Ecco Alessandro, vorrei chiedere qui dallo studio se c'è posto per tutti, ci sono ancora posti disponibili, insomma, sulla capienza, come stiamo andando? Ma sul posto c'è, tenga presente che comunque la regione Emilia-Romagna, tutto il sistema di protezione civile ha dato una risposta importante, è una regione che è attrezzatissima, quindi il posto c'è, noi ci auguriamo in realtà che nelle prossime ore si possa alleggerire, perché possa passare questa tensione, possano finalmente terminare le scosse e pian piano riprendere una normalità difficile, però ecco, il posto se dovesse servire c'è. Ecco, va detto che però ancora tante persone dormono in auto però. A volte è una loro scelta, perché comunque c'è organizzazione, ancora questa sera, per esempio il campo dove siamo è pieno, ma ci sono strutture d'accoglienza qua vicino, quindi è anche magari la non volontà di allontanarsi troppo dalla loro abitazione. A volte si può entrare nell'abitazione perché comunque è agibile, magari entrano di giorno velocemente e poi riescono e preferiscono a dormire in macchina. Bene, grazie Alessandro. Allora, non so, è tardi, non so se ti sei già messo d'accordo con alcuni sfollati, se poi vogliono partecipare magari più in là, ci richiedi la linea, e sentire anche la loro testimonianza diretta ci può aiutare a capire come stanno affrontando questa quarta notte, adesso immagino, nel campo tende. Quindi quando scegliere con loro richiedi pure la linea.